di valorizzarlo, di incrementarlo perché veramente ne vale la pena. Abbiamo bisogno ovviamente di organizzare il tutto, ci sarà tanto lavoro da fare, però in cinque anni riteniamo di poter riuscire a dare concreti segnali di quello che effettivamente può essere il turismo alle cave. Un pensiero poi ai lizzatori, ai lizzatori di oggi e ai lizzatori di ieri, ai rischi che correvano e che tuttora corrono i nostri concittadini. È veramente un mondo oggi lontano da quello che conosciamo, un mondo dove l'escavazione ha assunto ritmi veramente veloci e rapidi, ma questo è il mondo da cui veniamo e non possiamo dimenticarlo. È la nostra cura cercare di valorizzarlo, di portarlo un po' alla luce e soprattutto non dimenticarlo, conservando e valorizzando quelle testimonianze che ancora abbiamo, a cominciare dalle vie di Lizza, che sono una testimonianza storica del nostro passato. Di nuovo grazie a tutti e buon spettacolo a tutti. Grazie.